Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ben arrivato, onorevole Conte, si accomodi pure lì, a Tiziana Ferrario, ciao Tiziana e a Talisa Chirico, ecco qua, allora onorevole Conte, si accomodi pure, buonasera, e insomma come diceva Corona, tutte le volte diciamo, 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 no parlo della questione dei morti sul lavoro, è una tragedia terribile, massima solidarietà commossa partecipazione a questo dolore per i familiari, poi ci sono anche dei feriti, mi pare di capire gravi, 4 feriti gravi, 5 anzi forse feriti gravi, una tragedia che si ripete e bisogna prevenire, bisogna prevenire con delle misure che certo è difficile che siano risolutive, però sicuramente sui cantieri, in ogni contesto lavorativo dovremo potenziare tutte le misure di prevenzione e anche poi quelle repressive, noi per esempio proponiamo anche una procura specializzata, che si occupi di questo, perché occorre anche sono cause controverse molto complesse, molto specialistiche. E qui ancora non possiamo naturalmente dire niente, perché non sappiamo esattamente che... L'eziologia, no, non credo che ci sia... Non sappiamo esattamente cosa è successo, sappiamo però appunto che c'è stata questa esplosione al momento del collaudo e che questa ha provocato purtroppo il crollo di un solaio e quindi purtroppo gli operai sono rimasti sotto, quelli che non ci sono più, altri gravemente ostionati e altri ancora li stanno cercando, ma sembra che potrebbe essere davvero molto difficile trovarli ancora in vita, ma comunque noi torneremo a collegarci con il nostro inviato. Oggi ho visto che è stato molto rilanciato dai telegiornali la sua stretta di mano con Elish Line. Ma peraltro io l'avevo dichiarato... Però che dovevate fare? No, ma assolutamente non è una questione... Mi sembrava difficile che non distingeste la mano. Guardi capisco che poi c'è l'attenzione al sistema mediatico, si salutano, si abbracciano, si baciano, la stretta forte è calda, ma non è una questione personale. Stiamo discutendo di questioni serie, questioni che peraltro sono anche al centro del programma che la Schein si è dato per ovviamente rilanciare l'azione del suo partito legittimamente. Noi, mettetevi anche nei nostri panni, tradizionalmente diciamo non andavamo in coalizione, adesso sui territori abbiamo fatto una scelta, una scelta coraggiosa, quella di discernere caso per caso programmi, obiettivi comuni e poi gli interpreti migliori. Però al di sotto di una certa asticella per quanto riguarda legalità, per quanto riguarda lotta alla corruzione, per quanto riguarda lotta al malaffare, noi non possiamo scendere. Quindi è chiaro che siamo molto attenti nei contesti in cui affrontiamo a rispettare quello che per noi è un patrimonio e il DNA del movimento. Il movimento è nato con questa votazione. Però che cosa centravano le primarie del Partito Democratico a due giorni del voto quando nel candidato del PD alle primarie, tantomeno il vostro, la forgia, aveva niente a che fare con quelle storie di malaffare che sono venute fuori, mentre queste storie casomai riguardavano la giunta, la giunta della regione della quale voi fate parte, perché il Movimento 5 Stelle ha un assessore, una donna al welfare. Allora hanno detto, ma come mai Conte resta lì e se ne va dalle primarie? Una risposta per volta. Se mi fa tante domande tutte insieme. Le primarie c'entrano e come? Perché da quando poi le abbiamo annunciate e abbiamo anche deciso, vista l'irremovibilità del Partito Democratico, di tenere fermo le loro primarie, però sono abituati a farle, abbiamo assolutamente acceduto, visto che non c'era possibilità di convergere su una candidatura unitaria. Però attenzione, abbiamo avuto una prima inchiesta giudiziaria che ha coinvolto e ha avuto anche oggetto proprio l'inquinamento del voto. Poi c'è stata una seconda inchiesta giudiziaria e quindi la nostra decisione è arrivata quando poche ore prima è arrivata la seconda inchiesta che ancora di più ha travolto un sistema che non in tutte le sue componenti, ma in buone componenti è apparso inquinato. A quel punto lì, tra l'altro, aggiungiamo, ce l'avamo battuti perché le primarie avessero nuove regole, quantomeno una pre-registrazione per evitare proprio che arrivassero frotte di elettori o di partecipanti alle primarie all'ultimo secondo senza poterli controllare. E in questo contesto ci metta pure che c'è un'inchiesta per quanto riguarda il comitato di eccesso, sta valutando addirittura lo scioglimento per mafia che noi contrastiamo perché riteniamo che è un attacco strumentale al centro-destra. Mettiamoci che c'è un commissario giudiziale nell'azienda partecipata, è stato nominato al tribunale come misura di prevenzione, l'AMTAB la più importante partecipata, che parrebbe, questa è l'ipotesi accusatoria dell'inchiesta in corso che è stata infiltrata dai esponenti della comunità organizzata, c'è un commissario giudiziario, far finta di questo, ma io l'ho detto otto giorni prima, l'ho ripetuto ancora una volta a Elislein, guarda che se arriverà una nuova inchiesta noi non possiamo far finta di nulla, facciamo una grande partecipazione di popolo in un contesto in cui, ma ci prendono per pazzi. Ecco però mi risponda allora prima andare in pubblicità a quell'altra domanda, però come replica che dice, voi non avete partecipato alle primarie però continuate a far parte dell'Aggiunta Emiliano che è quella, comunque... La rinvio, le rispondo che ho già annunciato, la rinvio a giovedì mattina, ci sarà una mia conferenza stampa a Bari in cui annuncieremo assolutamente la necessità di una svolta, far finta di nulla. Svolta vuol dire che uscite dall'Aggiunta? Svolta significa che mi consulterò un attimo prima con i consiglieri... Dobbiamo aspettare proprio giovedì che lei fa la conferenza stampa! Eh no, guardi, ma non sarebbe neppure seri. Però se lei ha ragione, le svolte non si fanno in televisione, per quanto... Nonostante il suo programma sia autorevolissimo, però mi permetta, mi dovrò confrontare con i consiglieri, faremo una riunione e poi faremo in mattinata di giovedì una conferenza stampa in cui chiariremo in che cosa si intende per questa svolta, questa rivoluzione annunciata, perché per noi continuare a mettere la testa sotto il tappeto non è assolutamente possibile. Però insomma, adesso poi vi darò la parola, ma siccome c'è la pubblicità ci sembra di capire che la svolta... Ma la svolta giovedì potrebbe essere radicale in Puglia, però io comprendo il punto anche perché ricordiamo che a Bari il PD candida quello che è il capogabinetto del sindaco uscente, Conte con 5 Stelle già diversi giorni fa avevano chiesto un segnale di discontinuità candidare il capogabinetto del sindaco De Caro, non mi sembra insomma che risponda a queste svolte, però diciamo che il sindaco De Caro è stato considerato da tutti una persona in prima linea... Ma se mi posso permettere, con molto garbo, il Movimento 5 Stelle, ricordiamoci, noi siamo all'opposizione della giunta uscente, quindi abbiamo assoluto una grande responsabilità e coraggio nell'entrare in gioco, non ho mai parlato di discontinuità amministrativa, però diciamo certo che il capo di gabinetto di una giunta uscente in questo contesto, per quanto possa essere una persona per bene, mi dicono tutti, io non lo conosco, però è chiaro che non è secondo me la soluzione ideale, e peraltro la forgia è un candidato, ribadisco, che non abbiamo indicato noi, era lì sul tavolo, sul terreno, un'area civica l'aveva segnalato, altre forze di sinistra l'avevano segnalato, e per noi è quello più competente e autorevole, perché no? Vabbè, questo però, se ci fossero state le primarie, avrebbero scelti i cittadini, siccome non ci sono, è difficile poi dire al PD, convergete su quello che abbiamo indicato noi, però me lo dice dopo la pubblicità. Allora siamo qui con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Tiziana Ferrario, Annalisa Chirico, le faccio solo un'ultima domanda, poi sentiamole, Tiziana e Annalisa, quindi abbiamo capito che lei non esclude di far cadere la Giunta, questo mi sembra, no di far cadere, scusi, la Giunta non cade, di ritirare la sua assessora. Ne parleremo giovedì, però nulla può rimanere come prima, non possiamo far finta di nulla, i cittadini hanno bisogno di buona politica e queste prassi, che non sono virtuose, vanno estirpate. Anche per recuperare la credibilità, la fiducia dei cittadini, altrimenti qui l'astenzionismo lo metterà sempre di più. Sia Vito Leccese, candidato alle primarie del PD, che la forgia, sostenuto da lei e anche dal Movimento, e anche da Frato Ianni, si sono detti disponibili a fare un passo indietro, perché non cercare di convergere su un terzo nome? Rivelo una notizia riservata che in parte ho anticipato. I maggiorenti del PD locale sono De Caro ed Emiliano. Con loro, io non ho mai dato indicazioni su un candidato, ripeto, la forgia era lì, e ho detto, ditemi una ragione ostativa, non mi è stata detta, per cui hanno riconosciuto tutti che è stimatissimo e molto competente. Ed è per questo che poi alla fine abbiamo appoggiato lui come Movimento 5 Stelle. Detto questo, però ho detto a loro, portatemi anche un terzo candidato, benissimo. Dopo due mesi non sono riusciti a portarmene un altro. Quindi voglio dire, questa operazione di casting è stata già fatta e credo che in questo contesto al ridosso delle elezioni non sia serio andare a prendere un professore universitario, un medico, bruciare dei nomi come è stato fatto in Basilicata. Ci siamo già passati, le forze, anche le altre forze, si assumano le rispettive responsabilità. Noi abbiamo indicato la forgia che non era il nostro candidato come il più autorevole per il bene di Bari. Le altre forze ci facciano sapere cosa vogliono fare. Le altre forze una, il PD, il Partito Democratico. Ci sono anche forze, ci sono anche forze civiche. Però non pensa che in questo modo il centrodestra, che probabilmente non avrebbe vinto a Bari e che deve ancora trovare un suo candidato, si trova la strada spianata da questa rottura di una coalizione che poi forse non è mai esistita. Vogliamo vincere? Vogliamo vincere? Tutte forze progressiste? C'è un candidato competente, autorevole, che rimane in gioco, si chiama La Forgia, ha interpretato un progetto di valorizzazione. Ma non l'ho scelto io, era lì. Allora, Presidente, io la stavo ascoltando e sono volate parole grosse, no? In questi giorni ci sono state delle reazioni. A quale si riferisce? Beh, insomma, le cose che sono state dette anche alla segretaria Schlein sul cambiare il PD e poi si sono offesi all'interno del PD. Oggi ci sono anche le reazioni. Io ho ripetuto parole della Cascicchia e Capibastone. È il programma della Schlein per cambiare il partito. Non sono parole mie. Non mi sarei mai permesso di entrare in casa altrui. Si sono offesi in casa PD. Allora, la domanda che le faccio è come si fa a sconfiggere la destra? Perché immagino che il suo obiettivo sia quello, no? Di sconfiggere la destra. Assolutamente sì. Ecco, assolutamente sì. Quindi se si litiga con gli alleati magari anche in un momento di debolezza dell'alleato, no? Quindi come si fa a sconfiggere la destra in questo modo? La mia ricetta? Sì, certo. La mia ricetta, guardi, è non abbassare la guardia su questi episodi di mala politica, di corruzione e inquinamento del voto. Perché se noi di fronte agli scandali che ci sono qui diciamo che va tutto bene e facciamo finta di nulla, la destra non la batteremo mai. Perché la destra, invece, purtroppo... Ma litigando si batte ancora meno, eh? Ma noi non stiamo litigando, ma lei dovrebbe essere, se ha uno spirito civico, dovrebbe dire fate bene a buttare fuori persone che non sono degne di stare nelle liste. Fate bene persone che inquinano il voto. Non c'è più il voto libero spesso, si riduce sempre più. La platea dei votanti si riduce sempre più. L'astenzionismo aumenta. Ma il voto organizzato, il voto quello costruito sullo scambio di favori, aumenta sempre più. Io giro tutti i territori. Non sono le prime elezioni. Abbiamo visto anche a Palermo c'è stato un arresto in casa di Fratelli d'Italia. Però c'è una particolarità. Che a destra queste cose addirittura, loro con grande indifferenza smantellano i presidenti di corruzione. Smantellano addirittura e intervengono normativamente per allentare quelle che sono le maglie, per combattere come con le intercettazioni, il malaffare e non succede nulla. Da qui invece noi, se non siamo con un elettorato anche molto sofisticato, se non diamo un segnale vero di buona politica, non vinceremo mai. Questa è la mia ricetta. Anna Elisa. Io credo che Giuseppe Conte stia riuscendo in un capolavoro politico perché da una posizione di minorità elettorale, nel senso che il PD è superiore per consensi, il Movimento 5 Stelle con la sua guida sta riuscendo a dettare la linea. Volevo però farle una domanda perché dal caso pugliese è venuto fuori anche un po' quello che era il metodo del PD regionale, cioè di prendere sotto la propria tenda anche esponenti, anche portatori di voli. Eletti dal centro-destra. Dal centro-destra. Ha conferma che nel centro-destra è una prassi continua. Ci sono state molte accuse di trasformismo. Qualcuno ha detto però, può Giuseppe Conte che ha governato con la destra e con la sinistra dare lezioni di coerenza politicale che risponde a chi l'accusa per primo di trasformismo? Questa è una, voglio dire, è un'accusa che non ha senso perché nel 2018 il PD si rifiutò. Io ero appena entrato, appena proposto, anzi veni proposto dopo perché non c'era soluzione. Nel 2018 il PD non volle governare con il Movimento 5 Stelle e dopo tre mesi di stallo l'unica alternativa era andare a votare. Perché davvero il Movimento 5 Stelle voleva governare con il PD. Lei non ricorda che Renzi ebbe quella grande genialata che dopo aver negoziato sotto banco e per formare il governo andò in una trasmissione televisiva e all'improvviso fece saltare e disse che non voleva assolutamente andare con il Movimento 5 Stelle. E poi l'unica soluzione fu governare con la Lega. Di qui un contratto trasparente. Dopodiché quando è caduto il governo o si andava ovviamente a casa oppure c'era possibilità. Ma il Conte 2 ha rispettato meglio la vocazione anche progressista. Tant'è vero che oggi la nostra carta dei principi e dei valori è un manifesto progressista. Noi siamo nell'area progressista. Non governeremo più. Quelle situazioni del passato non le possiamo... Se non tornerete più con il centro dei fronti. L'ho già dichiarato. Assolutamente no. Perché tutte le nostre battaglie di giustizia sociale e ambientale sono tutte di area progressista. Abbiamo definito dopo con la mia leadership, quando sono diventato leader della comunità, ho interpretato quello che già c'era, valori che già c'erano, gli abbiamo dato diciamo uno statuto, una confezione anche chiara e quindi un chiarimento identitario nella carta dei principi e dei valori. Siamo in quest'area progressista. Quindi diciamo che le prossime politiche nel 2027 appoggerete il candidato del principale partito di questa coalizione di centrosinistra. Nelle prossime politiche, tra l'altro nel 2027, quindi c'è un po' di tempo, perché tutti a ragionare che lo stiamo facendo oggi, stiamo facendo su Bari, su ogni territorio ragioniamo perché dobbiamo avere un punto in più del PD. In realtà soprattutto dicono perché lei non accetterebbe mai che la candidata del centrosinistra, la Presidente del Consiglio, se ottenesse più voti, perché naturalmente fosse Elish Line segretaria del PD. Allora, di qui al 2027 non sappiamo che succederà. Quindi ragionare che oggi tutte le nostre decisioni e scelte sui territori sono in funzione di questo mi sembra allunare. Ma le posso dire una cosa, molto sinceramente. Ma se io non ci fossi, perché tutti li a dire, a cercare di accusarci, opportunismo, Conte vuole ritornare a Chigi a tutti i costi, ha solo questo in mente. Ma secondo voi, se io non ci fossi adesso in questo momento, non fossi io il leader del Movimento 5 Stelle. Ma la conoscete la storia del Movimento 5 Stelle? È nato per la legalità, è nato per combattere i privilegi della casta politica, è nato per la lotta alla corruzione. Noi abbiamo candidato Scarpinato e Derao. Se io non ci fossi stato sarebbero stati candidati non di meno. Oggi candidiamo per le europee Antoci, lo conoscete il protocollo Antoci, per contrastare le truffe per quanto riguarda le frodi europee per l'agricoltura. Allora se io non ci fossi sarebbe la stessa cosa. Queste sono battaglie della mia comunità che presistevano. Esistono oggi e ci saranno domani oltre conti. Presidente, non pensa comunque che in questo modo da qui ai prossimi dieci anni governerà sempre il centrodestra? Assolutamente no. Perché comunque loro in qualche modo la coalizione la sanno costruire con tutti i problemi interni che hanno. perché se non costruisci la coalizione stai all'opposizione. Qual è una mia previsione? Invece voi non siete in grado di costruirla, ci siete riusciti. Qual è una mia previsione? Come no? Allora se Elislein mantiene in fede al programma che la vista da cui ha tratto investitura come segretaria del Partito Democratico, noi potremo rafforzare questo dialogo. Se le scelte saranno conseguenti da parte del PD, noi arriveremo in ottima salute alla scadenza Quali dovrebbero essere le scelte conseguenti? Le scelte conseguenti? Quando ha detto libererò il partito da Cacicchi e Capibastone, non me lo faccio ripetere. Però il PD le ha risposto, vabbè non è che adesso deve arrivare Conte che ci dice quello che dobbiamo fare. E allora non possiamo lavorare... Anzi sentiamo da queste dichiarazioni del Presidente del Movimento 5 Stelle che ci viene a dire che cosa dobbiamo fare e come ci dobbiamo comportare. Scusi, ma l'ha visto nel Partito Democratico Torinese, ma lei immagini se fossimo andati insieme oggi che imbarazzo. Quindi lei sta chiedendo al Movimento 5 Stelle di violentarsi per andare col Partito Democratico. Io sto conendo delle domande. Guardi questa è una follia, noi ci dobbiamo violentare, ci dobbiamo rinunciare alla nostra storia per andare anche in situazioni inquinate. Ma assolutamente no. Tiziana? Io ho una curiosità perché oggi il Ministro Giorgetti ha presentato questo strano documento senza numeri che ci fa capire che forse aumenteranno le tasse, questo DEF, ma comunque anche la crescita inferiore alle previsioni. Però lì c'era questo elefante nella stanza che era il Superbonus. arriverà a 200 miliardi, quanto è il PNRR e in qualche modo lei viene indicato come il padre del Superbonus. Ecco, se tornasse indietro lo metterebbe ancora così come è stato messo al 110%, cambierebbe qualche cosa? Guardi, non c'era oggi un elefante nella stanza del MEF. Beh, hanno cercato di farlo intendere. Ah, ecco, l'hanno fatto intendere. Sicuramente. Quella è una gazzella perché ha fatto correre il Paese come non mai negli ultimi anni. Stiamo parlando del 13% di PIL in tre anni per riduzione del rapporto debito PIL di 17,6 punti. Oggi il rapporto sul debito PIL non si sta riducendo, sta aumentando perché non hanno nessuna misura per il rilancio del Paese. Quindi non c'è una responsabilità di questa scelta. La verità oggi è che il governo è in fortissimo imbarazzo perché ha presentato un DEF, lo diciamo ai telespettatori, il DEF è il lato più importante di programmazione economica, ma non c'è la programmazione economica. Non sono capaci di programmare alcun che, non hanno neppure visione e soprattutto perché sono condizionati. Il vero elefante sa qual è? Il pacco, quello che ho detto, un pacco di stabilità e di crescita che hanno deciso Francia e Germania e la Meloni ha accettato. Ecco quello, siccome entrerà adesso in gioco, ma lo faranno entrare in gioco dopo l'Europea se ne parlerà, avremo tagli sulla sanità ancora maggiori di quelli che abbiamo. Tagli sull'istruzione, sulla scuola e tagli dappertutto. Però il governo sa cosa dice che loro non hanno potuto presentare un piano. La gazzella, il capo espiatorio. Nel senso, per due motivi. Primo perché ancora non si conoscono le nuove regole del patto di stabilità, visto che la nuova commissione si dovrà insediare dopo le elezioni. E secondo perché pesano i soldi che sono stati stanziati e che hanno contribuito a aumentare il debito del super bonus che è stato fortemente voluto. Allora, loro sperano che a livello europeo ci sia la decisione di rinviare ancora una volta l'entrata in vigore del pacco di stabilità. Quel pacco andava combattuto con tutte le nostre forze perché ci porta all'austerità ed è giugulatorio per la crescita economica. Quindi oggi noi abbiamo la prospettiva con un governo che non farà né crescita economica né sviluppo sociale. E taglierà dappertutto. Abbiamo visto che con il PNRR iniziamo a vedere le prime truffe. Si è parlato di una mega truffa di 600 milioni. E attenzione, delle oltre 200 inchieste avviate dalla Procura europea, l'86% riguardano l'Italia. Quindi noi non soltanto abbiamo avuto la grande investitura europea di fiducia con i 209 miliardi che abbiamo portato. Adesso che il governo sta gestendo rischiamo di ritrovarci i truffatori d'Europa. Sarà un'ignominia nazionale pazzesca. Ed è per questo che non si devono permettere di allentare vincoli, presidi e i controlli. Abbiamo bisogno dei controlli. Il governo dovrebbe ringraziare la Corte dei Conti e l'ANAC non attaccarli costantemente. Sentiamo Annalisa. Almeno su un punto. Io concordo con lei che in quella fase storica sono state importanti queste misure. Va anche ricordato che l'Italia aveva perso 9 punti percentuali a causa delle misure prolungate, delle attività commerciali. Quindi in quella fase fare il salto è facile perché si è caduto tanto. Però sul Superbonus noi italiani abbiamo appreso che si sono ristrutturati le seconde case. Addirittura in 8 casi dei Castelli sono stati ristrutturati con le tasse di tanti italiani e anche persone che non hanno proprio la seconda casa da potersi ristrutturare. Operai e persone con redditi più bassi. Almeno su questo un punto di autocritica lei potrà farlo. Allora lo faccio se Meloni, tutti quelli di Fratelli d'Italia e tutti quelli della maggioranza faranno autocritica. Perché sa chi era in prima fila a chiedere estensione e proroghe per il Superbonus? Fratelli d'Italia, della Lega e Forza Italia. Io sono andato via da Palazzo Chigi nel febbraio 2021. Dopo per 16 mesi, lo volete dire pubblicamente che c'è stato Draghi a governare questo processo? Lo vogliamo dire che sono 17 mesi che lo governa Meloni. Ci si può assumere una corresponsabilità del fatto che tutti spingevano per estensioni e per proroghe? Allora, tornando invece alle questioni. Quindi questo documento di economia e finanza di cui capiremo qualcosa dopo le lezioni. E' truffaldino. Non c'è la programmazione economica? Che documento è? E' la prima volta nella storia che... Quelle misure che comunque è stato detto che saranno mantenute, che sono state fatte in deficit precedentemente, come il taglio del pugno fiscale, come l'accorpamento dell'aliquote IRPEF. Ci saranno nella prossima manovra? Guardi, oggi abbiamo un grosso problema, a mio avviso. Oggi abbiamo un problema che quella che era transizione energetica ed ecologica sta diventando transizione militare. Perché il governo, anche a livello europeo, in buona compagnia, stiamo puntando tutto su investimenti militari, una corsa a riarmi. Abbiamo un record storico. Quindi stiamo tagliando sulla sanità. Guardi che ci sono 4 milioni di cittadini che hanno rinunciato alle cure. Le regioni, anche di centrodestra, hanno denunciato un taglio di 1,2 miliardi per quanto riguarda addirittura la messa in sicurezza degli ospedali. Il governo dice che possono prenderli da un altro fondo. Ma cos'è un gioco delle tre carte? E sono stati tolti da quel fondo. Quindi ogni appuntamento elettorale passiamo sui territori e gestiamo i fondi di coesione e sviluppo a secondo delle circostanze elettorali. Questo non è dignitoso per un governo che deve rispettare i territori. Allora, prima di chiudere, però, vorrei tornare sempre alle questioni col Partito Democratico. Ma quindi lei sottraendosi a quelle primarie di Bari, no? In qualche modo non pensi di aver legittimato Piantedosi che ha inviato i commissari e ha detto che vuole sciogliere il Consiglio Comunale? Cosa che a questo punto io penso che potrebbe arrivare ancora di più. Ripeto, la commissione di accesso è stata nominata prima della nostra dichiarazione quando abbiamo preso atto che non c'erano più le... Ma era giusta, secondo lei, quella commissione? Allora, guardi, io ho trovato indegno, l'ho già detto, quell'immagine di rappresentanti esponenti del centrodestra vice-ministro, sottosegretario davanti a Piantedosi a invocare lo scioglimento e l'istituzione della commissione per lo scioglimento. Perché non puoi creare una pressione addirittura da parte dei membri di governo che parlano al ministro dell'interno. Quello è stato un episodio dal punto di vista istituzionale vergognoso. Dopodiché, se Piantedosi avvia una commissione di accesso applicando delle norme e ritenendo che ci siano i presupposti per l'applicazione, io da sindaco rispondo, venite qui, queste sono le carte. Entrate, perché il comune deve essere una casa di rete. Il comune del sindaco De Caro le è sembrata un po' sopra le righe? Perché invece De Caro ha reagito proprio in maniera opposta? Posso capire lo sconforto anche emotivamente del coinvolgimento. Dopo si è un attimo rimesso in carreggiata e giustamente ha detto quello che sto dicendo. queste sono le carte, io non ho nulla a nascondere ed è giusto che sia così. Io ho una curiosità che riguarda la politica estera invece. Prego. Voi avete mantenuto sempre una posizione molto lineare sull'invio di armi all'Ucraina, vi siete sempre opposti. Quindi non siamo trasformisti. La ringrazio perché a secondo dei giorni ci accusano di... No, no, no. Abbiamo un governo che invece si è sempre schierato a favore dell'invio di armi in questo momento. Sì, su questo siamo stati convinti... No, ma in questo momento l'Ucraina sta boccheggiando, cioè sta indietreggiando perché non sta ricevendo le armi. E non per colpa nostra. No, no, infatti non sto dicendo questo. Volevo capire... I governi occidentali. Ecco, quindi volevo una sua opinione su quello che sta succedendo e se l'Ucraina ce la farà fino alle elezioni americane a reggere una situazione... Se qualcuno ha avuto la bontà di seguirmi in tempi non sospetti, io avevo anticipato. Guardate, stiamo puntando su una vittoria militare, sul crollo dell'economia russa, stiamo puntando sul cambio di regime putiniano. Tutto questo è difficile che si realizzerà. Non si è realizzato e anticipavo anche quello che sta succedendo. Noi siamo democrazie occidentali. Da noi c'è il dibattito, c'è l'opinione pubblica, ci sono i cittadini che ci seguono. Se i nostri cittadini e l'opinione pubblica non vuole questa guerra, i governi non regono in questa direzione. Succederà a un certo punto che, man mano che si approssimano le elezioni dei governi al campo occidentale, noi abbandoneremo e non reggeremo più l'invio delle armi. E quindi la soluzione che lei vede qual è per l'Ucraina? Ma era dall'inizio. Quando avevamo grandissimo potere negoziale, quello di ovviamente costruire un percorso con lo sforzo diplomato. Adesso però non c'è più il potere negoziale. Adesso si sta riducendo sempre più. Avete l'Ucraina nella NATO? È d'accordo su una soluzione? Ma adesso guardi dire che l'Ucraina entra nella NATO è follia, secondo me, in questo contesto. È un paese che ovviamente è in pieno conflitto armato. Che vogliamo? Allora volete veramente accelerare la terza guerra mondiale? Senta, volevo farle un'altra domanda. Perché durante la sua permanenza a Palazzo Tiggi lei ha avuto ottimi rapporti con l'amministrazione Trump americana e a novembre si vota negli Stati Uniti e potrebbe tornare alla Casa Bianca Donald Trump. Mi chiede ancora a Trump, Biden, la prego. È stata chiesta 10.000 volte. Però adesso si vota davvero. Invece guardi, la cosa curiosa, scusi se... No, non volevo interrompere. Però la cosa curiosa è che ho risposto ogni volta e che la risposta non piace. Allora sentiamo. Quindi cosa auspico? La preoccuperebbe l'ipotesi di ritorno di Trump alla Casa Bianca o invece un'ipotesi che accoglierebbe visto che lei ci ha lavorato da Premier? Io quando sono stato Presidente del Consiglio del mio Paese in tutti i contesti ho lavorato sempre per realizzare l'interesse nazionale con le unghie e quei denti. L'avete visto anche in Europa quando si è realizzato quel sogno impossibile di portare 209 miliardi. Quindi se fossi Presidente del Consiglio anche oggi qualunque Presidente degli Stati Uniti avrei di fronte cercherei di avere buoni rapporti nell'interesse del mio Paese. non alla luce di uno schema ideologico mio personale che potrebbe condizionarmi il rapporto. Detto questo, di Trump già allora quando è stato Presidente non ho condiviso varie cose. Io non ho mai detto che condivido l'ideologia di Trump e sarebbe anche oggi per esempio non condivido dichiarazioni che ha preso su Israele. Io Israele ha assolutamente diritto all'esistenza, diritto alla protezione del popolo, diritto a un orizzonte di sicurezza, ma quello che sta succedendo su Gaza per me è inaccettabile l'abbiamo detto sin dall'inizio. E' così di volta in volta. E questo è il ragionamento. Noi dobbiamo lavorare secondo me con chiunque ci sarà per cercare di costruire un orizzonte in cui l'Italia riprenda credibilità. e soprattutto un ruolo per l'Europa, una leadership che abbiamo perduto da tempo. Bene. E secondo il governo Meloni, anzi la stiamo riprendendo da quando Giorgia Meloni è Presidente del Consiglio. Mi dica una situazione in cui... Sta riposendo sentire l'Italia finalmente in Europa... Ma lasci stare la chiacchia. Ditemi una circostanza in cui abbiamo risposto credibilità. Allora, eccoci qua. Annalisa Chirico diceva ma perché non ci dà un numero, una soglia di consensi che la renderebbe soddisfatta? No, io le dico la soglia di credibilità del governo. Che la raggiungesse alle elezioni europee. No, io le dico la soglia di credibilità del governo su cui ci siamo interrotti. Scusi, da che cosa è dimostrato il fatto che siamo arrivati ultimi nell'Expo? Che siamo arrivati ultimi per quanto riguarda l'agenzia anticorruzione? Quali sono gli elementi per cui avremmo più credibilità rispetto al passato? L'abbiamo persa. Giorgia Menoi dice che finalmente l'Italia è tornata centrale sia nelle questioni europee che anche nel mondo. Ma si ha detto ai comici russi che non le rispondono neppure a tele. Quello è uno scherzo su cui... Ma lei non sapeva che era uno scherzo. Lei parlava con sincerità. E' stato un lampo di sincerità. Abbiamo afferrato un lampo di sincerità del nostro Presidente del Consiglio. Sto facciandosi per Di Pietro, per Antonio Di Pietro. Ha la voce identica. Io per fortuna che sono prudentia. Non parlo mai per telefono. Quindi alla fine sono stata molto prudentia. Ci potevo cascare pienamente. Le assicuro. In ogni caso. Poi l'hanno anche ritrasmesso pienamente alla radio. Allora, siamo in chiusura. Ecco, questa soglia non ce la dice? Assolutamente no. Perché per noi... Io lo dico sempre. Voi state a guardare un punto in più, un punto in meno del PDA. Assolutamente. A noi non interessa questo. A noi interessano i nostri progetti politici. Io sì. Sicuramente spero che il Movimento possa esprimere un buon gruppo di europarlamentari determinati, forti, decisi per far saltare questo patto di stabilità e modificarlo. Perché per noi è assolutamente giuglatorio. Per evitare che dalla transizione ecologica si passi a quella militare. Per investire ancora di più in sanità a livello europeo per un reddito europeo di cittadinanza. Candiderete dei pacifisti? Come? Dei pacifisti? Dei candidati simbolo della pace? Li avete nelle liste? Bene. Noi siamo tutti i pacifisti noi. Quando vi sentirete? Simboli siamo noi. Allora devo chiudere. Sì. Quando vi sentirete? Presto. Presto. E comunque mi sa che prima degli europei non succederà niente. Questo mi sento da oddi pronostiere. Tutto è rimandato dopo il voto degli europei. Considerate... Ognuno gioca in proprio... Mi permetta. Considerate le traiettorie politiche. Non la stretta di mano. Perché io... Le traiettorie. Credo anche all'Iciadi. Di personale con me non abbiamo nulla. Certo. Non credo. Allora grazie Giuseppe Conte.